Le cronache di questi giorni sono agitate dall'ennesimo scandalo su presunti dossieraggi illeciti, compiuti da società private delle quali farebbero parte anche personaggi che hanno avuto ruoli importanti nelle istituzioni e nella lotta al crimine. Per quanto gravi, fatti del genere non sono purtroppo nuovi e ci spingono ancora una volta a chiederci se siamo diventati come il pesce rosso nella boccia di vetro, che tutti possono osservare se abbiamo veramente una qualche forma di tutela contro questi abusi e se non si è addirittura a rischio la tenuta delle istituzioni democratiche. Ne parliamo con Andrea Monti, avvocato e docente di Digital Law all'Università d'Annunzio, chiedi Pescara, professore, ma siamo tutti spiati? No, non siamo tutti spiati, ma certamente siamo tutti spiabili. Per quanto possa sembrare strano, può quasi far piacere pensare di essere sotto l'occhio, sotto la lente di ingrandimento di qualche struttura magari clandestina che raccoglie informazioni. La realtà è che nella stragrande maggioranza dei casi nessuno si interessa alla nostra vita individuale, anche se, ed è altrettanto controintuitivo, facciamo di tutto per rendere note informazioni su quello che facciamo, su quello che pensiamo, senza adottare nessuna minima cautela. Ma c'è un buco normativo? No, non c'è un buco normativo. Le regole ci sono, ci sono da molto tempo e sono anche fin troppe. Il problema, come sempre, è che vengono applicate poco e male. Questo vale in modo particolare per il tanto sbandierato regolamento sulla protezione dei dati personali, che sulla carta dovrebbe prevenire esattamente questo tipo di eventi, ma che in realtà è diventato solamente una fonte di inerzia burocratica che si traduce nel mettere firme e crocette su pezzi di carta, ma poco più. I risultati di questo modo di applicare la norma sono sotto gli occhi di tutti. Siamo a rischio eversione? Questa è una risposta che può essere fornita soltanto dagli addetti ai lavori e in particolare da chi opera nei massimi livelli della sicurezza dello Stato. Qualsiasi altra considerazione, per quanto frutto di ricerca e di studi, non può che essere una semplice opinione. È un dato di fatto però che la storia anche recente insegna che anche fra alleati ci si spia e dunque non soltanto i singoli cittadini sono oggetto di attenzione informativa, ma anche addirittura capi di Stato e di governo. Quindi in questo senso la vicenda che ci occupa in questi giorni non porta particolari elementi di novità.